Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un nuovo video Per quanto riguarda il risultato del video contest di GTA Online Sul sorteggio di un account moddato per PS3 Che è uscito una settimana fa Quindi io do sempre il tempo a tutti Di poter partecipare Dopo di questo vi anticipo già che lancerò un altro video contest Quindi state tranquilli che chi non ha vinto questa settimana Vincerà la prossima E fino a che comunque ci saranno questi contest Quindi andiamo comunque ad innanzitutto chiudere il video contest Quindi andiamo a chiudere il video contest Scriviamo un bel chiuso Cancelliamo i commenti Commenti in più Insomma Come vi ho fatto vedere anche l'orario Quindi ragazzi Insomma super tranquilli Perché non sto qui a fottere nessuno E non ne ho neanche voglia Quindi chiudiamo questo video contest scrivendo chiuso E andiamo a eliminare qualche commentino ragazzi Qualche commentino Che non c'entra un cazzo con il video contest E compagnia bella Dopodiché andremo ad incollare come sempre il link E andremo ad estrarre il vincitore Allora questi qui di commenti non li cancello perché mi piacciono Quindi comunque non verranno contati questi commenti Perché non sono riguardanti al contest Però li voglio lasciare perché Ci ho messo pure in cuore su quei commenti Quindi non ho assolutamente la minima intenzione di cancellarli Quindi ragazzi passiamo ad incollare il link del video E andiamo ad estrarre Scusate ma il browser mi fa un po' delle stronzate Non so perché Forse un malware o qualche cazzo Però lo controllerò E andiamo ad incollare il link Vediamo i commenti E andiamo ad estrarre il vincitore Ragazzi qui mi dice il vostro caro Cristi Il vostro caro Cristi Quindi andiamo ad aprire una nuova pagina Per verificare il Diciamo il canale di questo caro Cristi Se è idoneo alla vincita di questo contest Insomma no come sapete tutti i requisiti sono Lasciare un like Essere iscritti al canale Scusate che cazzo ho fatto Basta che clicco qui Mi porta direttamente sulla pagina del canale Del vostro caro Cristi Mi sono sbagliato E quindi insomma I requisiti li sapete tutti Lasciare un like Condividere il video Condividere nel senso Comunque già che lasciate il like Avete condiviso il video E qui ragazzi io non vedo Il video Adesso guardo un po' più In maniera un po' più approfondita Vediamo E essere iscritti al canale Insomma no I tre requisiti fondamentali sono Essere iscritti Scrivere un partecipo sotto al video E lasciare un like Non mi sembra niente di difficile Andiamo a vedere Diciamo l'iscrizione Vediamo Qui c'è un botto di iscrizione Vediamo Un'iscrizione Regà Vediamo 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 Ok Andiamo avanti Qui io non vedo nulla Però magari ci sta Che può stare anche più giù l'iscrizione Quindi andiamo a vedere più giù E vediamo se questa iscrizione al canale c'è Anche se effettivamente ragazzi non ho visto il video piaciuto Non rientra nella lista di video piaciuti Quindi già manca un requisito Comunque l'iscrizione c'è L'iscrizione c'è E vediamo i video piaciuti ragazzi Vado ad aprire la lista di video piaciuti E non c'è nessun mio video piaciuto Quindi qui abbiamo addirittura video di un anno fa Quindi Sto dizio sinceramente è iscritto al mio canale Non ha mai lasciato un like ai miei video A quanto ho potuto valutare E tra parentesi è pure quello che mi ha insultato Comunque vabbè lasciamo correre Non mi interessa un cazzo Vediamo qui Vediamo qui Luca Birindelli Vediamo qui Anche lui se ha tutti quanti i requisiti al posto giusto Ecco ragazzi vedete Questo è il video Il video piaciuto Come sarebbe dovuto essere nell'altro canale Andiamo a vedere l'iscrizione di Luca Birindelli E vediamo se ha tutti i requisiti Quindi ha scritto partecipo Ha messo mi piace al video E ha anche l'iscrizione vicino a quella di OrangoTangoMoz Ragazzi Ragazzi se avete bisogno di un account moddato A proposito colgo l'occasione Contattate OrangoTangoMoz Lo trovate tra i miei canali amici E' un bravo modder E' molto serio Quindi contattatelo tranquillamente Cercherà di accontentarvi Modda PS3, PS4 Insomma Contattatelo ragazzi Perché ne vale veramente la pena E anche dei prezzi alla portata di tutti Quindi ragazzi Qui Birindelli Ha vinto questo account moddato Detto questo gli lascio un commentino Per ricordarli che ha vinto l'account moddato Lascio un saluto a tutti voi Spero che il video vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Perché ci saranno altri nuovi contest Immediatamente dopo questo Per GTA Online PS3 E prossimamente anche GTA Online PS4 Quindi iscrivetevi al canale Un saluto a tutti E al prossimo video Ciao a tutti